Cullando il proprio bambino con il passeggino si può anche rassodare grazie a una nuova tecnica statunitense dal nome MammaFit. Lo yoga può curare la mente ma soprattutto lo spirito con delle grasse risate e il ballo latino si fonde nella ginnastica grazie alla Zumba. Queste alcune delle grandi novità di questa sesta edizione di Rimini Wellness. L'energia prende corpo e a Rimini Fiera è proprio vietato fermarsi. Di praticare lo sport è un consiglio che viene dato sempre e soprattutto perché ti insegna tantissime cose non solo nello sport in sé ma proprio nella vita in generale. Mi sento sempre debitore a un mondo che mi ha dato tantissimo ma non solo in termini di risultati agonistici ma soprattutto in termini di un'applicazione alla vita dei suoi principi, dei principi sportivi. Ecco questo è stato molto importante. Nuove tecniche e attrezzature si sposano, tradizionali sport creando così innovative dimensioni del divertimento fisico e mentale. Technology presenta una soluzione per fare attività fisica fuori e dentro la palestra, quindi una piccola chiave che è un motivatore al movimento. Non parliamo di una disciplina, parliamo proprio di una struttura, cioè pensiamola come fosse un muro della nostra palestra. Adesso il training in sospensione è sicuramente il training di tendenza. Il bootcamp si tiene normalmente due volte a settimana. Si tratta altro che di un allenamento funzionale con delle importanti varianti con tecniche militari. Abbinato a Termalia 2011, il Salone del Turismo Termale è giunto alla terza edizione. La Kermesse del Wellness propone dal 12 al 15 maggio tanto sport, mostre, convegni ed un ricco calendario di eventi. E chi l'ha detto che per stare in forma bisogna solo faticare? La linea perfetta si può raggiungere anche da un comodo lettino, grazie al mondo delle terme, cristalli e massaggi shatsu. Imparando a conoscerci impariamo ad usarci. Quando ci sappiamo usare possiamo vivere tutto in maniera molto più benefica. Quindi qui loro devono imparare a capire di che cosa hanno bisogno per poi uscire da qui e andare lì e divertirsi ancora di più con un colpo. Adesso potete andare addominali? Finite!